Perchè non c'è mai che fai da 8 g santi santi Eh però quando però? Non ti fai avanti qui No No signore E' la mia ottima cosa a dire Lui ce l'abbiamo già santi Dove è? No No Poi all'altro signore Questa è una cosa Una sera Una sera mi metto il mio peso Una sera mi metto il mio peso Ai piccoli Fai baciare ce l'hai Ah ma non si mi metto il mio peso E' il mio peso Come venga? E' una carica E' una carica E' la carica Non mi metto il mio peso E' io Un pescino Non rimasto il mio peso Non mi metto il mio peso Si? Garzzi Le dги? Beh, ma non c'è un po' per le lingue d'estate, non è un po' per la dottorina sia lì. Ora vedete qui. Non è vero, non è vero, non è vero. Come? Cosa è una cosa? Eh? Oh, vedete, che non è vero, Significa che è un attacco? Allora, come lo so. Voi, ha detto quello? No, non so che non mi sento mai. Voi, come ti sento la scatola? Cosa vanno a visitare? Ah ma stanzo quasi d'accordo A me troverai benzi da lì A me c'è benzi Sei 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 A me c'è benzi Che siete mai fa? Cosa E non E poi ti faccio capire se hai portato le banane E poi ti faccio capire se hai portato le banane Tutti per voi, vi faccio contenti Stanno i bananatosti, i bananatosti, i bananatosti, i bananatosti Quello mi piace Regalo pure te per il cacaca E poi ti faccio il polvere E poi hai portato Devi hai portato le bananatosti, ho sento a beluso Si devi hai portato le bananatosti Ho sentato a beluso, ho sento a beluso